Ciao a tutti e bentornati su Focus, ultimo video prima delle vacanze estive. Non so dove andrete, ma noi andremo in vacanza in Giappone, quindi per vedere tutti i contenuti interessanti seguiteci su Instagram e poi chiaramente faremo un video sul Giappone con tutte le foto che faremo. Ma non siamo qui a parlare di questo. Ma nel video di oggi vogliamo rispondere a una domanda che sicuramente tantissimi fotografi si saranno fatti. Tra APS-C e full frame, o tra full frame e medio formato, cambia davvero così tanto? C'è così tanta differenza tra un APS-C, un full frame e un medio formato? E nel video di oggi cercheremo di rispondere a questa domanda. Abbiamo messo a confronto la mia Canon R6 con sensore full frame da 20 megapixel, la Fujifilm XH2 di Dario con sensore APS-C da 40 megapixel e la GFX100S Mark II con sensore medio formato da 102 megapixel. Le abbiamo provate in diversi ambienti, paesaggi, città, provare a tirarle su di ISO e anche per fare dei ritratti. Il video di oggi quindi sarà quasi tutto un'analisi a computer dei file per capire effettivamente se cambia così tanto e vale la pena investire su sensori grossi. Inoltre abbiamo aggiunto anche un regalino extra, qualche confronto l'abbiamo fatto con lui, un iPhone 15 Pro Max con un sensore addirittura un pochino più piccolo di un sensore da un pollice confrontato in alcuni di questi scatti appunto con full frame medio formato per vedere effettivamente quanto un sensore grosso cambia rispetto a un sensore piccolo. Curiosi di vedere i risultati? Guardate il video fino in fondo. Adesso vogliamo confrontare lo stesso scatto con medio formato e APS-C per vedere quanto questo sensore così tanto più grande rispetto all'APS ha vantaggi in un ambiente come un paesaggio. Stessi settaggi, focale settata uguale e proviamo a scattare. Scattiamo a un 160esimo F8 ISO 125. Allora, già come possiamo vedere così a primo impatto i colori della media formato mi sembrano un pochino più belli. Appunto il RAW è un 16 bit, cattura veramente tanto. Proviamo un po' a pomparli per tirare fuori il meglio possibile da questi due sensori. Andiamo a vedere come comunque in generale il colore del cielo, il rosa, le sfumature di rosa sul medio formato sono più piacevoli. Le ombre si spostano velocemente ragazzi purtroppo e quindi non è esattamente la stessa posizione. E soprattutto se andiamo qua a vedere nella parte laterale sulle ombre, vedete come le rocce sono impastate. Le ombre proviamo anche a aprirle un po' di più, però comunque in generale il file è un pochino più impastato. Il medio formato ha una tenuta mediamente migliore. Andiamo anche qua a vedere il bordo della montagna. Eh qua sì, c'è una bella differenza in termini di determinazione di età e di dettaglio. Comunque in generale entrambi ottimi file. La cosa che appunto noto di più sono i passaggi tonali tra i colori. Che nel caso di medio formato, avendo appunto un sensore più grosso, riesce a catturare molto di più. Foto un po' più larga, andiamo a vedere un pochino meglio magari la gamma dinamica appunto, luci e ombre. File a vederlo così sono abbastanza sovrapponibili sempre i colori un pochino più belli del medio formato. Andiamo a aprire molto le ombre e chiudere molto le luci. Ricordo ragazzi sono prove fatte per testare i sensori. Non mi metterò mai a ritoccare una foto davvero così. Meno 100 più 100 contrasto 60. Copiamo i valori anche di qua. Andiamo a vedere. Allora in realtà se l'ha cavata molto bene la PSC. Non sente così tanto il confronto con un medio formato a schermo intero. Andiamo a zoomare un po' nelle zone magari più di ombra e più di luce a vedere come si è comportato. Allora nelle ombre chiaramente la PSC è più impastata, ha generato più rumore. Siamo in caso di APS-C a 320 ISO, mentre nel caso di medio formato a 640. Quindi nonostante il doppio regliso il file ha una tenuta migliore. Andiamo a vedere un pochino qua i bordi sulla neve. C'è un po' di aberrazione cromatica in più, però poi entra in gioco anche la lente e non solamente il sensore chiaramente. Andiamo a vedere qua sui cieli, sul rosino. Generalmente appunto abbiamo un micro contrasto, un'incisione, una tridimensionalità maggiore. Vedete qua la roccia al bordo ha una tridimensionalità, appunto micro contrasti nelle rocce migliore e medio formato. Ma in generale il termine di lavorabilità del file, di tenuta, luci, ombre eccetera, si sono comportati abbastanza in modo simile, al di là dei megapixel in più della nitidezza. Però sicuramente un buon lavoro fatto in confronto a PSC, insomma a schermo intero non si nota tanto. Ultimo confronto per questa serie, qua abbiamo veramente una condizione di ombre molto forti, abbiamo esposto sul cielo per appunto vedere quanto permette di recuperare. Apriamo al massimo su APS-C, apriamo al massimo su medio formato e il recupero, devo dire ragazzi, è simile. Mi aspettavo meno recupero da parte di APS-C, meno capacità di aprire le ombre, invece è molto buona. Il sensore X-Trans, pur essendo APS-C appunto non lo comparerai con un APS-C Nikon, Canon, Sony, perché hanno una matrice buyer diversa e ha proprietaria appunto Fujifilm e ha veramente un'ottima tenuta. Genera sì il rumore ISO, comunque è un sensore che è meno della metà, il rumore c'è, anche il dettaglio ovviamente un po' viene a perdersi. In termini di colori non va a rovinare il file, tiene molto bene. Questo medio formato è veramente clamoroso, cioè se guardate era così la quantità di dettaglio che tiene, di informazioni che ha questo sensore, nonostante il file lo sto stuprando sostanzialmente, perché veramente gli sto facendo le peggio cose. Il rumore ISO c'è, ricordiamo che comunque con due tocchi di Photoshop con gli A si toglie, ma guardate che recuperi, che permette, cioè si può veramente sbagliare la foto e siamo a posto. Poi in uno scatto del genere raramente si fa uno scatto singolo, perché nessuna macchina fotografica al mondo ha una gamma dinamica così elevata. Generalmente si mette il suo cavalletto e si fa un black time a tre scatti, uno esplendendo il cielo, uno sotto e una via di mezzo. Però insomma se anche non si ha il cavalletto qua permette un po' tutto. Mi interessa anche andare a vedere le sfumature qua di Rosino, guardate, stavo giocando un po' con la luce. Qua si vede secondo me di più la differenza tra il medio formato e la PSC, sono super cazzole ragazzi. Però se andiamo a vedere i colori qua ha leggermente più sfumature, la mappatura, il gradiente diciamo dalla montagna al cielo è più morbido. Qui fa un po' più di, non so come dire, stratificazione righe, dove invece qua è più graduale, più morbido. Non so se la percepite la registrazione schermico, questa morbidezza di colori che invece qua è un po' più a scalini, dato appunto dal 16 bit contro 12. Andiamo a confrontare come si comportano in un contesto urbano, paesaggistico diciamo, verso l'ora del tramonto, la golden hour. Quindi con una luce molto calda sopra dove viene illuminata dagli ultimi raggi del sole, ma molte ombre sotto. Quindi con tantissima necessità di gamma dinamica. Abbiamo sempre a sinistra medio formato di Fujifilm e a destra full frame di Canon. Come possiamo vedere i colori Canon tende sempre a avere colori molto caldi e tendenzialmente sovraesposti. Mentre Fuji tende a avere colori più neutri, più naturali, a mio avviso più gradevoli appena aperta la foto. E però tende a essere leggermente sottoesposta. I colori si possono sistemare abbastanza facilmente. Andando a contrastare un po'. Qui appunto abbiamo la necessità di chiudere le luci per avere un risultato più comparabile a questo. E qui abbiamo la necessità di aprire magari un po' di più le ombre. Così le foto sono leggermente più sovrapponibili. Allora, come possiamo vedere, viste così al 100%, al di là di puramente i colori che però lavorano un po' sui bilanciamenti del bianco o comunque sul color grading si possono, diciamo, livellare. Andiamo a vedere la restante parte, quindi comunque la tenuta, ombre, luci, incisione, eccetera. Allora, se andiamo a fare un bello zoomone cattivo sulle tre torri di City Life, andiamo a vedere un po' cosa si nota. Allora, su Canon io noto un pochino più di rumore nel cielo. Su Fuji, se vedete, rimane leggermente più pulito. E mi vale anche concentrare sulle scritte molto piccole, tipo qua, vittorie, assicurazioni, si legge in entrambe. E comunque, chiaramente, nel caso di Fuji è un po' più nitidina per via appunto dei suoi maggior numero di megapixel. Andiamo anche a vedere così. Comunque, in generale, ecco, guardate anche magari qua sul palazzo e su Fuji c'è veramente tanta differenza. Quindi se la vostra necessità è fare appunto foto paesaggistiche dove vi interessa magari fare dei ritagli o stampe di grandissime dimensioni, beh, qua la differenza tra un full frame e un medio formato è molto elevata. Sarebbe curioso vedere un full frame da 100 megapixel come si comporterebbe, perché qua, oltre ad esserci una differenza di dimensioni di sensore, ci sono anche 80 megapixel di differenza che sicuramente fanno. Qua anche andiamo a fare un crop importante, l'incisione è veramente ottima, soprattutto se pensate che stiamo partendo da qua. Andiamo anche a vedere qua nelle ombre come si comporta, qui come vediamo è tutto molto scuro e anche su Fujifilm è tutto molto scuro. Se io volessi però andare a cercare dettagli, a recuperare qualcosa qui, proviamo ad andare, chiaramente è una forzatura, un'esagerazione, solo ai fini del test. Vado ad aprire tanto e mi concentro qua sul lampione, idem di qua, apriamo tanto le ombre, andiamo ad esporre. L'inguadatura è leggermente diversa, era mano libera, non è semplicissimo. Andiamo a vedere, la tenuta è in realtà abbastanza simile, nel senso che mi aspettavo peggio da Canon, nel senso che un recupero di ombre così ampio tirasse fuori più rumore e iso, in realtà si è comprata molto bene. Anche Fujifilm è comprata egregiamente, il dettaglio delle foglie è incredibile. Su Canon è chiaramente più impastato, concentriamoci su questa area qua, guardate le foglioline qua e guardate le foglioline qua, quanto più dettagli abbiamo, quindi appunto, come dicevo, sui paesaggi tanta tanta roba. E anche aprendo a misure folli di esposizione, comunque se vediamo il rumore iso è veramente poco presente qua, come vedete, bruciato tutto, però posso tirare giù le luci, cioè questo file è veramente di una lavorabilità fuori di testa. Il file del full frame anche comunque ha un buon livello di lavorabilità, come possiamo vedere, direi un 20% meno del medio formato, che comunque ci permette di fare la qualunque. Ho voluto portarvi anche un confronto extra, questo qui è una foto, stesse condizioni di luce, stesso momento, scattata invece con l'iPhone 15 Pro Max, che ricordiamo avere un sensore un pochino più piccolo di un pollice, quindi se lo confrontiamo a medio formato full frame, veramente il nulla. Proviamo ad andare a caricargli lo stesso profilo Adobe che avevano gli altri, per avere un po' più di uniformità. Allora, pure qua vado a aprire le ombre, è un po' troppo calda, a mio avviso andiamo un filo a scaldare, contrastare un filo di più per assomigliare alle altre. La cosa divertente è che se io adesso vi vado a aprire a confronto la foto fatta con la medio formato, al di là sempre dei colori che, ripeto, si possono sistemare, così vista, diciamo, non zoomata, vi sfido a trovare differenze. Questo qui non vuole essere denigratorio nei confronti di medio formato, full frame, APS-C, ma vuole essere una grande lode al sensore di iPhone, o comunque i grandissimi passi avanti che si sono fatti, che iniziano a renderlo quasi competitivo anche in alcuni aspetti di fotografie paesaggistiche. Qua, appunto, condizioni di luci non troppo complesse e se l'è cavata bene. Chiaramente se andiamo a vedere il recupero sulle luci e le ombre non se la cava bene come full frame, ma vorrei anche vedere, però comunque lavoro eccelso. Andiamo a fare lo stesso zoomone di prima su il lampione qua sotto. Ok, le foglie sono decisamente impastate, qua si vede la grossa differenza. Sui grossi crop di dettaglio ha poca incisione. Penso sia più colpa delle lenti che del sensore in sé, perché comunque monta lenti un po' più plasticose. La scritta Vittoria Sicurazioni sempre si legge, il dettaglio qua sulla casa è decisamente peggiore. Però comunque è uno scatto interessante, un'ottima uniformità dai centri bordi, abbiamo meno profondità di campo. Però comunque scattando a diaframmi molto chiusi sulle macchine fotografiche si nota poco la differenza. Però è uno scatto utilizzabile, salvabile. Chiaramente non ci farei stampe di grande dimensione, ma su una stampa un 10-15, un 20-30 è comunque interessante. Soprattutto volevo farvi vedere, diciamo questo qui è il valore di base, anche aprendo tanto. Rumore ISO anche su un sensore così piccolo non c'è. Chiaramente le foglie perdono invece molto sull'impastato. Altro scatto interessante, sempre Fujifilm sinistra, Canon destra, andiamo a vedere con un forte controluce come se la cavano in termini di gamma dinamica. Quindi andare a abbassare più possibile le luci bruciate e aprire più possibile le ombre sottoesposte. Per vedere effettivamente il sensore più grande che vantaggi ci dà. Ripeto, sono stato ai fini di test, non mi metterò mai a editare foto realmente in questo modo. È una follia, ne sono consapevole. Allora, vediamo che sulle forti luci perde tanto. Chiudendo tutte le luci va a virare completamente i colori, diventa grigio e perde tanto. Ahimè, mi aspettavo meglio, sinceramente. Invece sull'apertura ombre si comporta meglio. Quindi è un sensore che predilige, secondo me, il sottoesposto. Meglio aprire le ombre che schiarire le luci. Andiamo a vedere su Canon stesso discorso. Le luci, le massacre, diventano grigie brutte. Le ombre le tiene bene. In generale, come colori, poi nel complesso medioformato mi piace di più. Tiene un po' più di pasta, di trimenzialità. Ma andiamo a vedere anche nel dettaglio quanto si va a, diciamo, rovinare il file. Fuji tende sempre a avere quella sua bella incisione su tutto. Ma anche Canon non si comporta male. In termini di rumore, andiamo a vedere qua nelle zone un po' più scure. Ok, guardate, concentriamoci su questo tronco. Guardate su medioformato e guardate su Canon. Abbiamo fatto foto con le stesse impostazioni e, come avete visto, le stessi recuperi in postproduzione. Le luci e la brillantezza del medioformato lo rendono vincitore. Però, sinceramente, visto la più grossa dimensione del sensore, mi aspettavo più differenza. Non è così eclatante. Non mi concentrerò sulla definizione perché, appunto, più del quadruplo di megapixel fanno chiaramente perdere la Canon. Ma in termini di tenute nel contributo di gamma dinamica non c'è questo abisso che mi aspettavo. E ragazzi, invece, a proposito di abisso, questo è lo stesso scatto fatto con l'iPhone. E se lo lasciamo col suo più raw, cavoli, è alla fine dei conti quello che si è comportato meglio in termini di gamma dinamica. Se vado ad aprire le ombre, comunque vedete che le luci sul cielo sono molto più uniformi. Non hanno preso quel viraggio al grigio spiacevole. Se lo mettiamo, invece, in modalità, diciamo, normale, le luci sempre sul cielo, molto belle. Vado ad aprire un po' le ombre, recupera meno, riesce a aprire meno. Devo andare a aumentare l'esposizione per avere sotto più o meno lo stesso dettaglio e quindi poi abbassare le luci. Cerco più o meno di portarla allo stesso livello di contrasto. Allora, come vediamo, in termini di gamma dinamica, il fatto che il sensore sia piccolo, sia stacked, abbia una lettura molto più veloce, gli ha permesso, effettivamente, di avere tanta gamma dinamica. Il prezzo da pagare è il dettaglio completamente inesistente. Qui ha completamente spappolato il file. Qui il dettaglio non esiste, ci sono aberrazioni cromatiche ovunque. Quindi sì, vista al 100% e magari vista da un cellulare, a primo impatto è una foto più bella rispetto a quella fatta con medio formato o full frame, perché appunto ha tutta una serie di contrasti, colori più uniformi e più piacevoli, ma poi, vista su uno schermo grande o appena si va a zoomare, si vede che il file è completamente distrutto e spappolato. Quindi lo rende assolutamente inutilizzabile per scopi lavorativi. Alta situazione, sempre Fuji contro... sempre medio formato contro full frame. Qui andiamo ancora a vedere uno scatto che definirei HDR, per il risultato che adesso voglio ottenere. Abbiamo all'orizzonte il Monte Rosa, visto dalla collina di San Siro di Milano, al tramonto, il sole gli va dietro e crea questo profilo delle montagne, è molto carino, molto interessante. Qua quello che voglio fare è cercare di avere più gamma dinamica possibile, quindi andrò a, sempre forzando la mano, chiudere del tutto le luci e aprire tutte le ombre, e ho questo scatto qua. Se faccio la stessa cosa su full frame, qui abbiamo chiaramente una luce meno forte di prima, quindi è più semplice. Ecco, vediamo che qua la differenza inizia a essere tanta. Come gamma dinamica i colori di Fuji non cambiano per niente, di Canon virano al grigio, devo andare un po' a recuperare così, ma comunque perde un po' di quella naturalezza, di quei colori caldi rosini del tramonto. Qui diciamo che la grossa differenza la fa il fatto che questo sensore scatta RAW a 16 bit contro 12 bit di Canon, quindi abbiamo molta più informazione di colori, di mappatura. E anche andando a zoomare molto, sempre che con Canon devo fare zoomate diverse, il file qua rimane molto pulito, su Canon si inizia a vedere tanto rumore sul profilo, qua inizia a impastare un po' di più. Quindi in questa condizione di contrasto, senza una luce troppo forte, quindi un recupero delle luci non eccessivo, ma altissimo delle ombre, la differenza c'è e come, appunto anche i colori proviamo con Canon a renderli un po' più caldi, un po' meno verdi, ma comunque non arrivo allo splendido risultato di questo scatto. Era così, guardate che recupero assurdo e incredibile che permette sulle ombre. Lo so, lo so che ve lo state chiedendo, ci arrivo. Questa è la stessa foto fatta con iPhone, chiaramente utilizzando solo il sensore principale, che è circa un 26 mm, mentre nel caso delle altre due fotocamere utilizziamo un 35 mm, quindi è un pochino più zoomata, qui è un pochino più larga. Con il profilo Pro Raw, devo dire, si è comportato bene, il contrasto c'è abbastanza, aprendo le ombre si smangia tutto, e invece andando a utilizzare lo stesso profilo degli altri, andiamo a vedere come si comporta, no. Sempre tende a diventare grigiolino, non è malvagio, ma andiamo a vedere il dettaglio come prima qua sulla pianta, è mangiato, dove invece prima c'era un bel dettaglio. Però comunque diciamo che se la usiamo al suo massimo, quindi col Pro Raw e senza andare a maciullare troppo il file, lo teniamo base, è uno scatto piacevole. In generale è un file che tiene molto meno bene la lavorazione, chiaramente, oltre ad avere meno dettaglio. Nonostante questo sia uno scatto più raw da 48 megapixel e Canon ne aveva 20, comunque è l'ennesima dimostrazione che i megapixel non sono tutto, il dettaglio qua sulla pianta è inesistente, nonostante quasi 50 megapixel, mentre Canon con 20 aveva molto più dettaglio. Ok, andiamo a fare un confronto invece ad alti ISO. Come vediamo siamo in questo caso a f4, a un quindicesimo di secondo a mano libera. Nel caso della Fuji siamo a un tredicesimo e vediamo che sono andato a 6400 ISO, Canon a 8000. Gli ISO erano in automatico, evidentemente Fujifilm, per vedere il sensore più grosso, riesce a catturare più luce, riesce a stare un pochino più bassa di ISO. Questo è il confronto. Andiamo a zoomare tanto e vediamo quanto questo rumore ISO è presente. Allora, come vediamo, tralasciamo per un attimo la definizione delle scritte, appunto megapixel. Il rumore ISO effettivamente su Canon è molto più presente. Ricordiamo siamo anche a 8000 contro 6400, però io ho impostato diaframmi e tempo a un quindicesimo, Fujifilm è andato a un tredicesimo, un attimino da capire, però gli ISO in automatico sono stati più bassi, quindi appunto il sensore più grande permette di contenere meglio il rumore ISO. È presente anche su Fujifilm, ma è molto meno. Andiamo a concentrarci qua, guardate anche e soprattutto nel cielo, dove è dove a me infastidisce di più il rumore ISO. È chiaramente migliore su medio formato, quindi sensore più grosso permette di tenere gli ISO meglio, nonostante il più alto numero di megapixel. I colori invece, nonostante gli alti ISO, mi sembrano belli su entrambi, insomma nulla da segnalare. Altro esempio sempre ad ISO alti, in questo caso per avere una resa simile sulla grana, ho impostato lo stesso valore ISO di 6400 su entrambi. Chiaramente Canon ha avuto bisogno, in questo caso lei, di andare a un tredicesimo, uno scatto quindi leggermente più lento rispetto a Fujifilm, per avere la stessa velocità addirittura, è venuta un pochino più luminosa. Infatti proviamo ad andare a scurirla un po', per avere una resa più omogenea. Andiamo a vedere pure qua come si è comportato, una cosa che io noto subito, guardando questa foto, abbiamo questa scritta che fa forte contrasto, è come il sensore medio formato ha gestito meglio la sovraesposizione, si riesce a vedere tutti i dettagli del leone e la scritta generali, mentre sul caso del full frame è un po' tutto impastato, si fa fatica a capire cos'è, devo andare a abbassare le luci, ma con questi valori ISO così alti il sensore fa fatica, diventa grigio, insomma, si rovina un po'. E anche la grana nel cielo, qui appunto è più piccolina, più piacevole, sembra quasi grana da pellicola, a mio avviso, e invece qua si vede proprio rumore un po' più digitale, come pasta. Però appunto l'aspetto che reputo più interessante è qui a vedere ancora, il dettaglio delle foglie in basso, che su Canon, andando a salire così tanto di ISO, si impastano, qua invece teniamo molto meglio. Ultimo confronto per questa sessione di scatto, allora la resa pure qua, vista al 100%, è abbastanza simile, pure qui, quanto detto prima, sulla scritta generali, sempre abbiamo un pochino più qua, il dettaglio del leone, però più grana ISO sempre su Canon, ma comunque differenze un po' più risicate, appunto al di là della tenuta ISO, direi uno stop migliore su medio formato, non c'è questa grossissima differenza in queste condizioni. E facciamo il confronto finale, che sarà interessante, in cui andiamo a prendere lo scatto di iPhone. Allora, col più RAW, sempre lui fa le sue calcole intelligenza artificiale, e riesce a stare molto più bassi con gli ISO, perché ricordiamo, in realtà il più RAW, è una serie di più scatti RAW fusi in uno solo, quindi è riuscito a ottenere una luminosità, che vediamo essere un filino più bassa di quella di prima, ma con gli ISO è stato molto basso, infatti se andiamo a zoomare, tra le tre foto, per assurdo, è quella che ha meno rumore ISO di tutte, quindi in termini di tenuta ISO, un sensore minuscolo, da meno di un pollice, in queste condizioni, si è comportato al pari di un medio formato, e anche il dettaglio qua sulle foglie, non è per niente male, ha tenuto, secondo me, lo stesso dettaglio del full frame, e questa cosa è veramente incredibile, anche il dettaglio delle righe dei palazzi, si è comportato bene, ci sono alcune condizioni in cui l'iPhone, a me stupisce, riesce a ottenere risultati, veramente incredibili, se andiamo a metterlo, senza il suo, diciamo, la sua somma di RAW, diventa più luminosa, quindi ha lo stesso livello di luminosità, che avevamo con le altre due, c'è effettivamente più rumore ISO, e la scritta generali qua, tende un po' a sovresporre, se cerco di recuperarla, se esagero a 100, sputtano tutti i colori, ma se già vado a un meno 20, visto a schermo pieno, secondo me questa foto è tranquillamente comparabile, con le altre due, questa cosa me lascia abbastanza sorpreso, ma ne andiamo a questo confronto ancora più interessante, aggiungiamo anche un APS-C, per vedere la differenza su un ritratto, in questo caso, tra APS-C medio formato e full frame, Allora, in caso di APS-C stiamo utilizzando la X-H2, la posa della modella chiaramente non sarà esattamente la stessa, abbiamo avuto cambiare fotocamera, e era impossibile che restasse esattamente immobile, ma andiamo un po' a vedere come si comportano, allora appena aperto, devo dire che il file della PS-C è quello che mi sembra un po' più scarico di colori, e tende un filino a sovraesporre la carnagione, mi sembra un po' troppo pallida, il file del medio formato è molto contrastato, ma ha le ombre molto chiuse, il file di Canon invece è anche lui un filino desaturo, guardate il colore del muro, ma soprattutto molto molto giallo, però un pochino più corretto in termini di ombre e luci, allora andiamo a rendere questa qui con dei colori un filo più mani, la vado a raffreddare un attimo, però poi devo andare a dargli saturazione, perché l'ha completamente persa, il file di Fuji secondo me invece va un po' schiarito, perché è molto scuro, e il file di APS-C sempre Fuji, ha queste luci che sono un po' troppo brillanti a mio avviso, un po' fastidiose, e anche lui un po' desaturo. Come colori ora più o meno ho cercato di uniformarli, è un lavoro molto veloce per non perdere tanto tempo, per concentrarci su altre cose che ci interessano. Ho cercato di tenere per tutti un 250esimo, che è il tempo fisso che abbiamo tenuto, e il diaframma intorno a F5-56 per tutte. I valori ISO cambiano, nel caso del full frame abbiamo 500 ISO, a parità di impostazioni medio formato abbiamo 250 ISO, quindi molto più basso, perché il sensore più grande cattura appunto più luce, e il caso di APS-C 640 ISO, quindi quello più alto di tutti, perché appunto il sensore più piccolo è quello che cattura meno luce. Ricordiamo la foto di XH2 a 40 megapixel, la foto di GFX ne ha 100, e la foto di Canon R6 ne ha 20. Andiamo a zoomare, allora una cosa che si nota subito a mio avviso è la profondità di campo, guardate la differenza di stacco tra gli occhi e il muro, come è poca su APS-C, un pochino di più chiaramente su full frame, e moltissima su medio formato. Quindi a questo punto di vista, per la tridimensionalità d'immagine, per lo stacco dei soggetti, la profondità di campo medio formato è veramente incredibile. Addirittura, a volte troppo, bisogna stare attenti, perché abbiamo fatto scatti a diaframmi molto aperti, in cui la punta della ciglia era a fuoco, mentre l'iride era già sfocato, quindi attenzione. GFX è quello che mi piace di più, in termini di tridimensionalità. Il dettaglio, devo dire, è abbastanza simile su questi livelli di crop. La tenuta, se vado ad aprire, è a vedere qua il dettaglio, diciamo, nelle ombre dei capelli, giusto se voglio concentrarmi su quello. Aprendo le ombre, tanto qua il rumore ISO è abbastanza presente. Facendo lo stesso ingrandimento su medio formato, molto meno, guardate, differenza. Andiamo a vedere su Canon, chiaramente i rapporti ingrandimento cambiano per via dei megapixel diversi, divento matto ogni volta. Ok, come mi aspettavo, appunto, una via di mezzo. Il dettaglio, però guardate, concentriamoci sul dettaglio delle labbra, chiaramente la media formato ha un dettaglio meraviglioso. APS-C, purtroppo, appunto, presenta anche a 640 ISO questa granina. Adesso andiamo un po' a chiudere le ombre per non esagerare, però questa grana che è un po' sporca al file, si vede qua nell'occhio, un po' più presente rispetto a nelle altre macchine che tengono una foto più pulita, più piacevole da vedere. Però, appunto, è quello che un po' ci aspettavamo. Continuiamo a analizzare la differenza sui ritratti. Questa volta su uno scatto verticale, una luce un po' più calda, siamo verso la golden hour, tra i tre ritratti. Allora, come possiamo vedere, le cose rimangono le stesse, quindi medio formato, leggermente sottoesposta, Canon molto, molto calda. Devo capire questa roba del bilanciamento di questa Canon dà un attimo da sistemare e tende sempre un filo a sovraesporre. In questo caso la PSC è quella che, in termini di generale, così si è comprata meglio. Andiamo a vederla, un po' più ingrandita. Allora, come vediamo sempre, la profondità di campo è quella che mi dà più soddisfazioni nel caso del medio formato. Il dettaglio, in realtà, è ottimo su tutte e tre. Qua mi sembra un po' più, appunto, che ha dato dettaglio dove serve, negli occhi, nel labbro, nel ciuffetto, dà un bel senso di trimensualità, bella foto. Su Canon ha inciso un po' troppo, secondo me, cioè ha pompato risoluzione un po' ovunque. La foto mi sembra un po' plasticosa, non mi piace molto la resa, è andata a accentuare troppo, diciamo, i pori, il grasso della pelle. Non mi fa impazzire la skin tone che ha preso qua. Molto, molto più piacevole nel caso di Fujifilm medio formato. E anche nel caso di Fujifilm APS-C, stessa cosa. Il skin tone mi piace di più. Ma in generale, devo dire che sui ritratti in luce naturale, questo medio formato è veramente tanta, tanta roba. Ed eccoci giunti alla fine. Le conclusioni le lasciamo trarre a voi, guardando i risultati che avete visto nella registrazione schermo dei file. Commentate sotto se vi è piaciuto il video o cosa ne pensate dei risultati, se vi aspettavate di più o di meno da un sensore all'altro. Grazie per aver visto il video fino a questo punto e vi auguriamo buona estate a tutti. Un saluto da Focus.